... Intanto è un'iniziativa di buonsenso, oltre che di grande valore civile, perché è evidente che in Puglia, come in Italia, non ci possono essere nemici o avversari, non ci possono essere forme di denigrazione così spinte, che tra l'altro fanno male a tutta la comunità, perché ne offendono il valore, la civiltà, oltre a deturpare anche la città, perché talvolta non ci si rende conto che con queste scritte sui muri si arrecono danni anche a monumenti, cioè non c'è mai un limite all'indecenza. Quella del sindaco di Merendugno, del mio compagno e amico Vittorio Potì, è sicuramente un segnale molto forte. Le comunità, attraverso i loro amministratori, si ribellano, rifiutano queste forme, queste ostentazioni che non hanno senso. Io comprendo anche quello che può accadere tra tifoserie, lo sfottò, ma lo sfottò simpatico, non lo sfottò che offende. Ma veramente noi l'abbiamo fatto per scusarci con i baresi che erano residenti a Torre dell'Orso, nelle nostre marine. Ci sembrava un delitto lasciare senza nessuna reazione una scritta scema, idiota e vile. Poi il sindaco di Bari mi ha chiamato, il presidente del Consiglio mi ha chiamato, mi ha ringraziato, non c'era niente da ringraziare, intendiamo, c'era solo un atto dovuto di civiltà. Penso che abbia... Poi ci sono state anche reazioni perché sono tornati, confermando la viltà, perché uno che di notte scrive, non scrive, eccetera, sono tornati. Però devo dire che la stragrande maggioranza dei cittadini di Melendugno, indipendentemente dalla collocazione politica, si riconoscono in questo gesto di apprensione per le scritte che si fanno e confermano i loro sentimenti di gratitudine e fratellanza per tutti i nostri ospiti, ivi compresi quelli di Bari che sono peraltro numerosi a Torre del Barzo. Io ritengo, io non lo condivido, non per il ruolo, ma non lo condivido per la mia storia politica, per la mia cultura politica, quello di essere un pugliese, ma soprattutto un meridionalista convinto. Siamo alla vigilia di un evento nel nostro Paese, quello dell'avvio del federalismo. Siamo proiettati verso le cosiddette macro-arie, proprio per poter meglio resistere alla concorrenza internazionale, per aiutare meglio la crescita dei nostri territori. Queste azioni di secessione, queste azioni che frazionano il territorio ci indeboliscono. Sulla regione Salento dobbiamo discutere, non vorrei che fosse una telenovela come la Bat, che è durata 40 anni e che abbia portato tutti questi benefici. Bisogna vedere come farla. Ho un terrore che sia un escamotage per avere visibilità. Qualcuno vorrà diventare senatore, deputato. Inutile andare indietro, cerchiamo di andare avanti perché abbiamo da fare molto e forse l'unità ci agevola.